ben trovati a tutti amici di gran bazar ci troviamo a san colombano in via delle ville naturalmente nell'esposizione di giorgetti renzo allora vi ricordo che siamo aperti dal lunedì fino al sabato sera chiusi la domenica però sempre a vostra disposizione direi di fare una bella carrellata sui nostri prodotti e partirei appunto dai caminetti ricordandovi che qui a san colombano trovate una mostra un'esposizione grandissima sono circa 600 metri di esposizione tutta dedicata ai caminetti caminetti moderni classici antichi francesi dell'ottocento caminetti destinati ad aumentare di valore nel tempo ma come sono destinati ad aumentare di valore nel tempo tutti i caminetti che facciamo personalizzati e su misura quindi se avete problemi di spazio non vi preoccupate ci venite a trovare portando una piantina del vostro ambiente noi siamo in grado di farvi il cammino personalizzato o piccolissimo o grandissimo non ci sono veramente problemi a questo proposito però vi voglio ricordare anche che noi siamo in grado di fare i caminetti a prezzi veramente stracciatissimi partiamo da 1300 euro quindi caminetti completi interno in rifrattario e rivestimento moderni o rustici non ci sono problemi naturalmente nell'interno dei nostri rivestimenti possiamo montare qualsiasi tipo di struttura e vale a dire caminetti a produzione di aria calda caminetti a produzione di acqua calda da abbinare anche all'impianto di riscaldamento caminetti che funzionano combinati legna e pellet quindi la gamma è veramente vastissima vi ricordo anche però che abbiamo i cosiddetti chiamati inserti che sono dei caminetti che possiamo andare a inserire in caminetti già esistenti e avere un cammino ad alto rendimento ventilato a produzione di aria calda che consente di scaldare anche ambienti vicini quindi senza dover fare il cammino nuovo possiamo inserire il nostro inserto a prezzi veramente stracciati e andare a scaldare una casa di 100 120 metri quindi tutte queste nuove tecnologie le trovate nella nostra esposizione qui di san colombano naturalmente noi non siamo solo caminetti o bagni pavimenti di rivestimenti ma abbiamo anche una gamma vastissima di cotto fatto a mano e qui siamo esclusivisti di una fornace veramente la prima in italia che fa questo prodotto cioè quindi cotto fatto a mano il bello è che noi abbiamo pronta consegna di questo materiale ne abbiamo veramente tantissimo una gamma vastissima qui trovate un'esposizione dedicata sempre anche a questi materiali e la possibilità di venirla a vedere apprezzarlo caricarlo e portarlo a casa allora vi ricordo di nuovo l'indirizzo la ditta di Giorgetti Renzo siamo in via delle ville a san colombano di lucca sempre a vostra disposizione dal lunedì fino al sabato sera ciao a presto